Siamo trasferiti, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. Siamo trasferiti, perseguitati, perseguitati, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri. È stato trasferito, perseguitato, questo carcere è duro Frank, piegato, ma mai vinto, nessuno è morto finché non è sepolto, per il ciclo action, qual è il piano? Lo saprei al momento giusto. Donald Sutherland, Sylvester Stallone, sorvegliato speciale, giovedì alle 21, con Iri.